Arresti per droga all'Aquila, 7 persone indagate, fra cui una donna. Digitalizzazione nella pubblica amministrazione, se ne è discusso nella sala conferenza Ex-Arsa. Presentato il premio Davide Andretti, concorso letterario destinato agli studenti di Avezzano. Finanziamenti per i danni della nevicata 2017, oltre 200 milioni di euro, somma annunciata dal presidente Marsilio. Guardiale saluto dagli studi di Antenna 2. In primo piano la cronaca, questa mattina personale della squadra mobile di L'Aquila, al termine di una complessa e articolata attività investigativa, eseguito sette delle nove ordinanze di custodia cautelare, predisposte dal GIP del Tribunale di L'Aquila a Giuseppe Romano Gargarella, nei confronti di sei uomini e una donna, indagati per reati commessi allo spaccio di sostanze superfacenti. Sono in corso le ricerche di altri due indagati, destinatari rispettivamente della custodia cautelare in carcere e di quella degli arresti domiciliari. Le indagini, durati circa un anno, sono iniziate nell'estate del 2017. Nel corso dei continui servizi di osservazione effettuati dagli operatori della sezione antidroghi, è stato notato un anomalo via-vai di persone, nei pressi di un'abitazione della centrale via del Guasto. Gli investigatori, approfondendo il fenomeno, hanno capito che all'interno e nei pressi dello stabile, avvenivano numerose cessioni di sostanza superfacente del tipo cocaina. Le attività investigative, coordinate dal Pubblico Ministero, David Mancini, della DDA di L'Aquila e dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, hanno permesso di documentare, anche attraverso l'utilizzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, una fiorente attività di spaccio di cocaina. I clienti, dopo aver preso accordi telefonici con gli indagati, utilizzando anche WhatsApp, entravano nell'abitazione e ricevevano la cocaina patuita. Il prezzo di ogni singola dose, mezzo grammo, era di circa 50 euro. In più casi, per eludere i controlli delle forze dell'ordine, alcuni clienti consumavano la droga direttamente nell'abitazione. Le articolate attività operative hanno consentito inoltre di dimostrare l'esistenza di una vera e propria associazione, di cui facevano parte alcuni degli indagati, costituita allo scopo di reperire e poi vendere al dettaglio la cocaina, evidenziando i singoli ruoli degli appartenenti all'associazione criminale. E prosegue in provincia di L'Aguila l'impegno infatti della Polizia Stradale per la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti e per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Nella notte tra sabato e domenica, l'attività di controllo svolta dal personale della sottosezione Polizia Stradale di Avezzano in collaborazione con il personale dell'ufficio sanitario dell'acquistora dell'Aquila si è concentrata nell'area centrale della città di L'Aquila producendo risultati apprezzabili. Nel corso del servizio infatti sono state elevate 22 sanzioni al codice della strada, controllate 90 autovetture, identificate 98 persone, tra cui conducenti e passeggeri, decortati 95 punti e riterate 9 patenti di guida i cui titolari sono stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica deferiti all'autorità giudiziaria. La specifica attività di vigilanza stradale svolta dalla sottosezione di Polizia Stradale di Avezzano per il raggiungimento degli obiettivi volti alla riduzione dell'incidentalità dovuti non solo all'abuso di alcol e stupefacenti alla guida proseguirà anche nei prossimi fine settimana. La digitalizzazione è un'emergenza nazionale del Paese ma le risorse destinate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione sono insufficienti. Questa è la situazione. Allora non è sbagliato parlare di emergenza digitale. Ben vengano quindi momenti di approfondimento come quello odierno promosso dal comune di Avezzano che si è tenuto nella sala conferenze dell'ex Arsa. Quando si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione si intende un ampissimo spettro di attività che vanno dalla gestione delle infrastrutture digitali alle piattaforme, dalla banda larga alla cyber security, dalla sanità alla scuola, fino ad arrivare ai piani di investimento industriale che mirano a rendere il nostro Paese più competitivo a partire dal digitale. Molte aree interne e montane anche in Abruzzo. La digitalizzazione risulta quindi un modo necessario per organizzare, uniformare, semplificare, risparmiare, superare il digital divide, superare le inefficienze, la troppa burocrazia, combattendo sprechi e soprattutto supportando la crescita e la competitività. L'agenda digitale può essere considerato quindi un piano che risponde ad una richiesta di risparmio. Investire sulla digitalizzazione porterebbe a un risparmio di 800 milioni di euro con un'incidenza di mezzo punto sul PIL. Oggi come oggi la civiltà di un Paese è su misura anche del grado di digitalizzazione raggiunto. Per quanto la tecnologia sia fondamentale e necessaria non è il solo elemento a cui prestare attenzione. Nel personale non sono entrati i nuovi manager della generazione digitale e sia anche vero che è possibile formare il personale. È già parte dell'organico, il background molto diverso da quello di chi ha avuto modo di studiare tecnologia, l'implementazione di processi complessi fin da giovane. È stato presentato oggi nella sala consigliere del Comune di Avezzano, il premio Davide Andretti giunto alla seconda edizione. Si tratta di un concorso letterario destinato agli istituti superiori della città rappresentati oggi dal dirigente scolastico del Galilei Corrado Dell'Olio e dalla professoressa Alma Luce del liceo Bellissario. Premio onore alla memoria dal giovane allo scopo di tramandare nei ragazzi di oggi la passione di Davide per la letteratura, per il giornalismo, per la poesia, ma anche il rigore e la correttezza e il rispetto che impone una divisa militare, quella azzurra, che il giovane ha vestito come sotto ufficiale dell'aeronatica. Un dettaglio della premiazione che si tratta al Castellorsini il 28 di questo mese, dalle 9.30, è stato organizzato dalla sezione avezzanese dell'arma aeronatica, preseduta dal sergente maggiore Pietro Antonio Di Matteo, con la collaborazione del luogotenente Angelo Colizza, maresciallo luogotenente e vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Aeronatica. A portare il saluto al papà Gianni, alla madre Angela, alla sorella Damiana e a tutti gli altri familiari, l'assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano. L'evento è patrocinato dal comune di Avezzano e dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, promosso da BCC Roma e Fondazione Carisbac. La giuria che sceglierà gli elaborati vincitori è composta da Pietro Antonio Di Matteo, sezione di Avezzano dell'arma aeronatica, come presidente, Raffaele Lolli, società operaglia di mutuo soccorso come segretario, e da Maria Teresa Letta, Croce Rossa, Paolo Guadagni di Antena 2, Mario Di Berardino, docente di italiano, Floriano Maddalena Unucci, Pietro Fiano, comandante e compagnia Carabinieri Avezzano, Fabiana Diacovitti, dirigente scolastico, istituto comprensivo Mazzini Fermi. Alla conferenza stampa è stato presente Plinio Olivotto, che ha realizzato il servizio che sta per andare in onda. Seconda edizione del premio giornalistico Davide Andretti. Siamo nella sala consigliare dove c'è la cerimonia di presentazione di questa manifestazione. Un ragazzo che faceva parte della nostra redazione, Davide, ha iniziato giovanissimo, poi però un brutto destino lo ha voluto portare via. Siamo con Tonino Di Matteo, qualcuno lo chiama Pietro Antonio, ma per noi è Tonino Di Matteo il presidente della locale associazione dell'arma aeronautica. Che cosa rappresenta per voi questo premio, questa cerimonia? Questa cerimonia rappresenta per noi un motivo per portare all'attenzione dei giovani che impegnandosi, che facendo un'attività costruttiva si guadagna sempre. Si guadagna sempre e si ricordano poi questi ragazzi nell'avvenire, in tutto quello che faranno. Senti, voi coinvolgete, questo è già il secondo anno, le scuole, i più giovani. Chi è che ha risposto al vostro appello? Sì, alcuni istituti hanno risposto positivamente e infatti abbiamo molti temi da stiamo visionando per poi il 28 premiare i quattro prescelti. Una prima selezione l'hanno fatta già le scuole, un'altra la sta facendo una giuria nominata da noi. E verranno, questo mi risulta, anche esponenti proprio da pratica di mare, ufficiali o sotto ufficiali dell'arma aeronautica? Sì, verrà il comandante del reparto dove lavorava Davide e i colleghi. E tutto pronto quindi? Tutto pronto per il 28 alle 9.30. Angelo Colizza è il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale. Vabbè, ti ho dato un grado di più, che comunque non guasta mai. È di buon augurio. Di buon augurio. Dicevo con chi ti ha preceduto, con Torino Di Matteo, sottolineavo l'importanza per voi, per la vostra sezione di questa cerimonia. Beh, la cosa è molto importante. Io in particolare mi sento molto onorato perché, come ben tu sai, io faccio parte della sezione di Avezzano ed avere il doppio incarico anche come Vice Presidente e Consigliere Nazionale è la cosa mi lusinga moltissimo. Devo dire che la Presidenza Nazionale stessa è molto attenta a questi avvenimenti perché ci rendiamo conto che il futuro delle associazioni, in particolare della nostra, è sicuramente quella di lavorare con i giovani. Per cui questo premio per noi è importante come Presidenza Nazionale perché comunque lavoriamo con i giovani. Per noi sezione di Avezzano è molto importante perché ricordiamo una persona a noi molto cara, una persona che ha dato tanto sia all'aeronautica che al mondo di Avezzano giornalistico in sé per sé e quindi è con infinito piacere e molto onore che noi ripresentiamo quest'anno per la seconda volta questo premio perché ci è particolarmente a cuore. Senti, da qualche anno, voglio allargare un po' il discorso, da qualche anno non c'è più l'obbligo del servizio militare. Che cosa rappresenta questa decisione dei nostri governanti per tutte le armi, non soltanto per l'arma aeronautica ma per le armi in generale e per la nazione ma anche e soprattutto per i giovani? Guarda, posso parlare chiaramente a titolo personale e per quello che un po' si sente in giro. Certo che per noi associazioni d'arma la mancanza del servizio di leva ci è pesato tantissimo proprio in funzione di iscritti a questa associazione poi. Per il resto è stata una decisione che abbiamo accettato, è una decisione importante, è una decisione che ha preso il nostro governo per cui l'abbiamo accettata per quello che è. Ripeto, a titolo personale posso dire che è un'esperienza che secondo me ai giovani manca oggigiorno. Era un'esperienza che ti portava fuori da casa, era la prima volta che tanti ragazzi uscivano da casa e quindi si confrontavano con altre realtà. Però così è, così ci dobbiamo adeguare. Ripeto, per noi associazioni è stata una grossa mancanza perché gli iscritti vanno sempre diminuendo, non c'è un ricambio e quindi per noi associazioni di forza armata è stata una grossa perdita. Tu hai conosciuto Davide Andretti? Assolutamente sì, è stato uno dei nostri, è stato un carissimo amico fraterno, direi un amico fraterno. Grazie. Lo Stato finalmente investe sulla sicurezza del territorio, senza i soldi e competenze in favore delle regioni e degli enti locali. In Abruzzo, nel Piano Proteggio Italia, avverato dal Governo nazionale, sono previsti oltre 200 milioni di euro che presto saranno a disposizione degli abruzzesi. È una rivoluzione sia in termini di qualità che di quantità. Ad affermarlo sarà Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle Regione. Cosa dei governi che ci hanno proceduto? L'Italia si è vista costretta per anni a rincorrere l'emergenza. Abbiamo attraversato decenni di tagli e di investimenti che hanno provocato solo approssimativi interventi, ex post, quando un terremoto o un'alluvione avevano già provocato vittime, danni incalcolabili. Oggi, grazie al Governo, si punta per la prima volta alla prevenzione. Per l'Abruzzo, come del resto d'Italia, questo significa un cambio di rotta radicale. Un merito che Regione Abruzzo e per essa il Presidente Marsilio dovrebbe riconoscere al Governo del Movimento 5 Stelle che in meno di un anno alla guida del paese è in grado di fornire anche alle Regioni strumenti concreti con i quali migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. Un'attenta relazione tecnica, un contributo tecnico alla progettazione e alla gestione delle alberature di via Corradini nel comune di Avezzano. Gli studenti del terzo tecnico dell'Istituto Agrario Sarpieri di Avezzano hanno consegnato in comune all'assessore all'ambiente Crescenzo Presutti la relazione scritta a seguito dei sopralluoghi effettuati per verificare lo stato di salute degli alberi di via Corradini. I ragazzi che per il loro lavoro hanno ricevuto anche il plauso della dirigente scolastica Paola Angeloni sono stati seguiti dal docente di gestione del territorio, Ruffino Sgammotta. La manutenzione delle alberature di tutta la città, il commento dell'assessore Presutti, fa già parte dei lavori inseriti negli appalti della gara del verde pubblico. In questo caso siamo di fronte a lavori straordinari che non partiranno comunque prima di ottobre in quanto ad aprile partiranno già lavori sulla pavimentazione del tratto di pedonalizzazione permanente. La relazione acquisita dal comune sarà ora oggetto di studio da parte dell'ufficio ambiente e di alcuni agronomi. Faremo eventuali aggiustamenti e partiremo in autunno per dare un nuovo volto al verde pubblico del centro della città. Ed oltre 200 milioni di euro per fra fronte ai danni causati della nevicata 2017 per un piano di investimento redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che è sodevita in tre annualità il finanziamento assegnato all'Abruzzo. Per il 2019 si avranno oltre 62 milioni di euro e altri due tranche da 70 milioni ciascuna per il 2020 e il 2021. Questi dati che il Presidente della Giunta, Marco Marsilio, ha annunciato di ripomeriggio in conferenza stampa affiancato dal Presidente del Consiglio regionale Dorenzo Sospieri e dal Sottosegretario Umberto D'Annuntis a riguardo un servizio esplicativo. Oltre 202 milioni di euro destinati ai comuni abruzzesi per far fronte ai danni causati dalla nevicata 2017. Il dettaglio degli interventi è stato illustrato oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa all'emiciclo alla quale hanno partecipato il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D'Annuntis. È un primo passo, una prima tranche dei 200 milioni assegnateci dal Governo qualche giorno fa e che la protezione civile in tempi veloci ha sottoposto la firma del Presidente. La prima tranche riguarda 60 milioni e permetterà di dare la prima risposta ai danni del maltempo del 2017. Quindi tanti comuni potranno finalmente mettere mano al loro patrimonio immobiliare e quindi ripristinare anche lo stato dei luoghi che erano stati danneggiati al maltempo. riguarda sia la viabilità e sia anche interventi su strutture di altro tipo tipo palazzetti dello sport e altre strutture comunali. Ripeto, è una prima risposta. Adesso dovremmo lavorare tutti affinché i comuni nei tempi previsti dalla legge possano proseguire nella loro attività e quindi possano concludere l'idea procedurale che si prevede dentro il mese di settembre. Su questo come regione e soprattutto come uffici saremo molto attenti per fare in modo che queste risorse non vengano perse. La forbice si allarga, si ampia cioè la distanza tra le aziende che sono in difficoltà e quelle che invece mostrano interessanti segni di vitalità. Roberto Donatelli, Presidente di Asconfidi Imprese, cooperativa di garanzia, nata nel mondo confcommercio che con i suoi mille soci è un consolidato punto di riferimento per le imprese del terziario. Si trova in una condizione privilegiata che gli consente di conoscere e leggere la situazione del mercato di riferimento costituito dalle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e quindi di avere maggiore consapevolezza di ciò che sta accadendo. Stiamo rilevando una sostenuta crisi di liquidità nel settore terziario, prosegue Donatelli. A farne le spese sono soprattutto le piccole imprese del commercio al dettaglio e i pubblici esercizi che si trovano per questa ragione nella necessità di chiedere finanziamenti di importi crescenti e di più lunga durata, lo scopo di abbassare la rata, dunque rendere più sostenibili le spese per il rientro. Sono aumentate infatti le richieste di finanziamento per consolidare le posizioni debitorie in corso. Abbiamo registrato anche un aumento delle richieste di interventi. A Valeri sul fondo anti-usura, che noi gestiamo per conto del Ministero delle Finanze per sostenere le aziende in difficoltà e a rischio usura. Questa è una faccia della medaglia. L'altra faccia aggiunge Donatelli. Ci induce a guardare con maggiore ottimismo al futuro. Parallelamente infatti abbiamo registrato il dinamismo di molte imprese che hanno voglia di crescere, che investono in ristrutturazioni per l'ampliamento delle attività, lo sviluppo di nuovi settori e così via. Per le imprese in difficoltà e per quelle che mostrano segni di ripresa, la sconfì di imprese è un solido punto di riferimento. Oggi sono terminati ufficialmente i lavori di ristrutturazione all'Ipercoop del centro commerciale I Marsi di Avezzano, che lo scorso anno ha festeggiato 10 anni di apertura. Da giovedì 21 marzo l'Ipercoop di Avezzano, punto di riferimento per la spesa nella Marsi, che sarà pronto ad accogliere i soci co-op e clienti nella sua nuova veste moderna e attrattiva, frutto di settimane di lavori volti a rendere più fruibile il punto vendita, più comoda, veloce e completa la spesa quotidiana. Coloro che si recheranno nel nuovo ipermercato troveranno un punto vendita con un'offerta ricchita e rinnovata in linea con le più moderne realtà della grande distribuzione. L'apertura di una co-op ottica, la creazione di un'isola di frutte e verdure biologiche spusa, l'ampliamento e lo spostamento della farmacia, con la vendita anche dalla galleria, sono solo alcune delle tante novità presenti. Dopo il negozio co-op di via Vidimari ad Avezzano, nel 2017, quello di Torrione all'Aquila, lo scorso anno, per il terzo anno consecutivo, la cooperativa sceglie di investire nel territorio abruzzese, rafforzando stavolta il cuore della propria offerta sul territorio nel prosieguo del percorso di rinnovamento ed efficientamento costante della propria rete commerciale per offrire sempre nuovi servizi ai propri soci e clienti. Per il 21 marzo, nell'anno del decennale del terremoto, Libera Abruzzo ha scelto di svolgere la giornata regionale all'Aquila. Nel capologo abruzzese confluiranno i cortei delle scuole, dell'associazione dei singoli provenienti da tutta la regione, per recitare tutti insieme, come un interminabile rosario civile, i nomi, i cognomi delle vittime innocenti, delle mafie ricordate, le vittime del terremoto, del terrorismo, delle stragi in mare, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Una memoria non relegata al ricordo e alla commemorazione, ma una memoria viva da tradurre in impegno quotidiano. Per chi vuole partecipare, sono aperte le iscrizioni, sarà messo a disposizione un pulma da Libera Marsica, con partenza alle ore 8 da Antrosano, frazione di Avezzano. La prenetuazione è obbligatoria. Ora passiamo alla pagina sportiva, con il calcio eccellenza, vittoria meritata e importante, quella ottenuta dal capistrello sul campo dell'Alba Adriatica per 1-0, in quanto ha consentito di centrare la zona play-off, a conferma del buon andamento del campionato, almeno fino a questo momento, è difficile da prevedere all'inizio del torneo, ma vediamo come è maturata la vittoria nel nostro servizio. Alba Adriatica e Capistrello si affrontano nella trentesima giornata alla ricerca di punti pesanti in chiave play-off. I vibratiani, oggi privi dell'infortunato capocasa e degli squalificati Giambè e Leonardo Emili, vogliono aumentare il distacco di soli tre punti dai marsicani. La compagine di Misteriodice, invece, ha la chance per riaprire completamente i giochi. Dirige l'incontro colonna della sezione di Vasto. I locali partono bene e, dopo cinque minuti, Foglia, con questo pallonetto dalla strana traiettoria, impegna Di Girolamo nella respinta in corner. La risposta marsicana arriva tre minuti dopo con il colpo di testa di Fantauzzi, salvato da Di Nicola sulla linea. Vuoi per l'alta posta in paglio e anche per le condizioni precarie del manto erboso del Luca Vallese, il primo tempo va agli archivi senza altre emozioni. Ad inizio ripresa arriva subito l'episodio decisivo. L'incomprensione tra Fabrizi e Petrini favorisce Pollino, che è il più lesto di tutti e deposita a porta vuota la rete dell'1-0. L'attaccante Amaranto è ancora protagonista al diciottesimo con questo destro bloccato da Petrini. L'Alba fatica a metabolizzare il colpo subito e riesce a concludere in porta solo al trentaseiesimo con Di Nicola, sfera alle stelle. Nel recupero ci prova anche Lorenzo Emili, ma il suo destro non trova i palidi di Girolamo. Poco prima del fischio finale, Miani finisce a terra in area dopo questo contatto, ma per il direttore di gara si tratta di semplice rimessa dal fondo. Decisione che scatena le proteste di giocatori e tifosi locali. Finisce così 1-0 per il Capistrello, che sale a 49 punti agganciando gli Albensi e lo Spoltore per una rotta play-off completamente riaperta. Masticamaro invece è la squadra di Misteri Zotti, chiamata a riscatto nella prossima giornata contro la Renato Curi Angolana. Misteri Odice era una gara dalla posta in paglio molto elevata, alla fine l'ha spuntata il Capistrello, che ha giocato una partita, diciamo, anche intelligente a suo modo, perché non ha concesso praticamente quasi nessuna occasione agli avversari e poi nel momento di colpire sulla disattenzione dell'Alba Adriatica si è fatta trovare pronta. Sì, noi l'avevamo preparata così, sapevamo i pregi e i difetti dell'Alba Adriatica, poi sapevamo che il campo non ti permettiva di fare un tipo di gioco, che noi cerchiamo sempre di giocare la palla da dietro, quindi l'abbiamo preparato in questo modo. È stata una partita difficile, equilibrata, si sapeva che l'episodio poteva fare la differenza, è andata a favore nostro, siamo contenti, ma più che altro per i ragazzi, per dare continuità a quello che abbiamo fatto domenica scorsa e quindi per sperare ancora, per rimanere nelle prime posizioni per cercare di raggiungere i play-off, che per noi sarebbe una cosa storica. Con il servizio di sport termina qui questa edizione del giornale, vi ricordiamo che la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook, Antena 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.